Un pareggio rocambolesco per l'audaceo Cerignola nella diciassettesima giornata della Lega Pro. Sul terreno dell'arena di Francavilla i gialloblu o Fantini trovano un rocambolesco 3-3, frutto di una serie di emozioni nell'arco dell'intera gara. Partono bene gli ospiti con D'Ausilio che la manda fuori di poco all'ottavo. Prima occasione Francavilla con Macca che spara alto. Al quarto d'ora a Malcore in mezza rovesciata trova la respinta del portiere. Non da meno Krabbikas e dalla fronte opposto sorrisolo. Ventisettesimo rigore per l'audaceo su mani del giocatore citato poc'anzi. Tira a Malcore 1-0 gialloblu. Francavilla prova a reagire ma subisce il gol della doppia ospite al trentaduesimo. Malcore ricambia il favore per Zacca Ruggero. L'attaccante non si lascia sfogire all'appuntamento ed infila. Il Francavilla si rianima nel finale e trova l'1-2 ancora con un rigore. Atterramento di biondi realizza Polidori. Nella ripresa è tutta un'altra gara con i padroni di casa catechizzati a dovere dal tecnico Occhiume. Ragluzzi negli spogliatoi. Il pari dopo sette minuti. Cross in area di Risolo e Giovinco realizza il 2-2. Ma il sorbasso Francavilla si verifica qualche minuto dopo. Quattordicesimo. Fallo fuori dall'area di rigore di Gonnelli. L'arbitro lo giudica dentro tra le proteste dell'audaceo Cerignola. Polidori effettua il sorbasso per i padroni di casa. 3-2. L'audaceo Cerignola sembra smarrita e non sa che per scevigliare. Ma il vero errore risulta il portiere Kravikas. Con due superparate su biondi prima e in associazione sulla zuccata di Polidori. Nel finale le due espulsioni locali, Risolo e Monteagudo, che si improvvisa a portiere, determinano nell'esima svolta. Rigore per il giallo-bluo Pantini e Malcore la chiude sulle tre altre finale. E' evitata la sconfitta, si cerca di fare quadrato e preparare il derby di lunedì prossimo, 18 dicembre, al Monterisi contro il Boggia. Pari interno senza reti contro il Potenza.